Il 13 ottobre Imola ospita Io non rischio, la campagna di informazione sulle pratiche più utili ed efficaci da adottare in caso di terremoto. I volontari del soccorso subacqueo imolese saranno in piazza per incontrare e informare le persone sul tema. Sabato 13 ottobre, piazza Caduti della Libertà, dalle 9 alle 18. Ci saranno volontari che faranno informazione e prevenzione sul rischio sismico. Una cosa molto importante, una cosa che per la prima volta viene a Imola, è una campagna nazionale, quindi siamo orgogliosi di averli anche a Imola. Ed è molto importante informare la popolazione sul rischio sismico, su quello che devono fare prima, durante e dopo un eventuale terremoto. C'è già un piano comunale, già autorizzato e già in essere, quindi si fa anche questa manifestazione per far conoscere anche semplicemente i cartelli che sono in giro per la città, che molti cittadini non conoscono, vedono e non sanno cosa significano. Quindi si fa informazione anche per i punti di raccolta dopo un eventuale evento sismico, per dare supporto alla popolazione che ha subito questo evento. Grazie. 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 Grazie.